Ci troviamo quindi nel cuore nella sede di Ucima e sono con Gianpaolo Crasta, direttore dell'associazione. Gianpaolo, siamo qui nel corso della cena di chiusura dell'anno. Qualche dato rispetto a quello che è stato il 2023 per Ucima? In termini di settore è stato un anno positivo con un'ulteriore crescita di fatturato che dovrebbe far superare la soglia dei nuovi miliardi di fatturato, anche se gli ultimi mesi sono stati mesi di rallentamento, direi congiunturale, viste le perturbazioni macroeconomiche che ci sono nel mondo. Per cui l'ottimismo sul 2024 è un po' meno forte rispetto agli anni precedenti, anche se ci auguriamo che poi dalla seconda parte del 2024 in poi torni un po' di ciel sereno anche sul nostro settore. Quindi per quanto riguarda il 2024, che cosa si possono aspettare i vostri associati? Come al solito cercheremo di supportarli soprattutto nel presidio dei mercati internazionali. Abbiamo lanciato lo scorso anno il brand We Make Packaging, che è un brand promozionale internazionale. Continueremo a presidiare tutte le principali fiere internazionali, che per noi vuol dire overseas, quindi con l'obiettivo di supportare la penetrazione del Made in Italy fuori dall'Europa. Ci sono ormai alcune tappe essenziali dove siamo padroni di casa, come Chicago, Bangkok, dove ormai siamo la presenza internazionale più nutrita, Vietnam, Filippine, alcuni mercati dell'Africa. Questi sono solo alcuni dei circa 15-20 appuntamenti fieristici che faremo. Un'altra importante tappa del 2024 saranno le celebrazioni per il quarantennale di Ucima, che vogliamo festeggiare guardando al futuro, non solo guardando al passato, con l'obiettivo di utilizzare il racconto della storia incredibile delle persone che hanno fatto questo settore per avvicinare sempre più giovani alle opportunità offerte dal nostro settore. Come ormai usiamo dire, lo vedremo meglio nel prossimo anno, siamo fieri di rappresentare un settore che costruisce macchine e che realizzano i sogni di tutti noi. E questo sarà un po' il lev motive del prossimo anno. Quindi insomma tante cose da festeggiare e tanti auguri da fare oggi, sia per quello che sono le feste di adesso, ma soprattutto per i primi 40 anni di Ucima. Assolutamente sì e ci auguriamo che siano almeno per tre direi. Grazie mille a Giampaolo Crasta, auguri a tutti ma soprattutto a Ucima. Grazie a tutti.